Consigliere Pettinari, lei è primo firmatario di una proposta di legge importante che potrebbe semplificare il rapporto fra regione e pubblica amministrazione, aziende e cittadini. La definirei una grande rivoluzione della pubblica amministrazione perché questa proposta di legge prevede l'istituzione di un indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate. Che significa? Che tutti i professionisti, le imprese, le aziende, i cittadini e soprattutto le pubbliche amministrazioni abruzzesi, regione, comuni e società pubbliche dovranno dotarsi di una posta elettronica certificata grazie alla Regione Abruzzo che si occuperà di tutta la fase tecnica. La Regione Abruzzo poi costituirà un elenco di tutte queste poste elettroniche certificate. Questo sistema andrà a far risparmiare le pubbliche amministrazioni perché sono centinaia e centinaia di migliaia di euro l'anno per spedire una posta o una raccomandata. Andrà ad accelerare i tempi perché con un semplice clic un cittadino potrà fare un'istanza, una domanda, un comune piuttosto che una regione e addirittura le pubbliche amministrazioni potranno colloquiare e comunicare in diretta quasi potremmo dire con i cittadini, con le imprese e con le aziende. Poi i cittadini che non sono dotati ancora di un servizio internet o non hanno le competenze, quindi gli anziani, questa legge prevede la sospensione per quei cittadini, la sospensione della procedura, ma con le economie che la Regione risparmia da questa procedura andrà a fare corsi di informatica per formare i cittadini anziani e a installare il servizio internet in tutte le zone della Regione Abruzzo.